Atto nuovo nella ditta. Il feroce cavaliere Catellami era stato eletto gran maestro dell'ufficio raccomandazioni e promozioni. A lavoro, a lavoro! Chi non scatta niente scatti! Ve lo dice uno che viene dalla gavetta e che si è fatto un mazzo così! Aveva fatto piazzare nell'atrio la statua di sua madre Teresa, a cui era molto affezionato. Chi non scatta niente scatti! 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 e non scatta niente scatti 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 E non scatta niente scatti